Ciao a tutti, oggi prepareremo i fagioli in umido. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono dado bimbi, cipolla, pomodori, olio evo, prezzemolo, rosmarino, sale, pepe, fagioli secchi ammollati in acqua per il tempo indicato sulla confezione e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i pomodori, la cipolla, il prezzemolo, il rosmarino ed azioniamo il bimbi per cinque secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per cinque minuti 120 gradi, velocità 1. Aggiungiamo i fagioli, il pepe, il sale, il dado bimbi e l'acqua. Ed azioniamo il bimbi per 60 minuti 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Con il cestello al posto del misurino. Proseguire adesso la cottura per 15 minuti. Temperatura varoma, anti-orario, velocità soft. Verificate la cottura e eventualmente proseguire per altri cinque minuti. Andiamo a impiattare. fagioli in umido. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.